incredibile non so se un effetto speciale o montato comunque guardate un po cosa succede da questa macchina guardate bene cosa ecco qua avete visto dietro è apparso quel ragazzo o quella ragazza non si distingue guardate adesso zoomiamo vediamo meglio più sotto è incredibile guarda se è un montaggio è stato ben fatto guardate guardate incredibile ma da dove salta fuori quello cioè ma poi questi sul motorino nemmeno hanno guardato quindi non so se darci se molto veritiero questo video però guardate cioè è veramente un mistero come se non comparisse dal nulla come non ho idea non ho idea guardate cioè